Mi sento più equipaggiato per affrontare le difficoltà della vita, perché comunque alcune cose le ho vissute molto intensamente, ne sono uscito e i miei errori più grandi sono state le mie più grandi lezioni, quindi mi sento più solido in questo, però la vita è lunga e succedono tante cose, quindi non ho la presunzione di dire che so affrontare tutto perfettamente. Da quando ci siamo ritrovati la nostra amicizia è più sincera di prima e come ti dicevo Fede mi ha aiutato molto, perché comunque come io cerco di aiutarlo nel mio piccolo quando posso, però anche lui conoscendomi così bene su tante cose probabilmente mi conosce meglio di quanto io conosca me stesso, è stato in grado di consigliarmi, di aiutarmi e anche di guidarmi sotto certi aspetti in questi mesi, perché vedendo la mia vita da fuori avevo una prospettiva diversa, quindi si mi ha aiutato molto.